Promette battaglia Vandaferro nelle nuove vesti di consigliere regionale e necessaria, dice, una commissione d'inchiesta per ricostruire ruoli e responsabilità nella stesura di un testo di legge che ha creato un vulnus gravissimo. Ci sono voluti due anni perché l'ex presidente della provincia di Catanzaro ottenesse il passe per il Palazzo Campanella. Lo ha staccato ieri mattina contestualmente al deposito della sentenza del Ter Calabria che ne ha colto il ricorso contro la legge regionale 19-2014. Ieri il Ter Calabria, preseduto da Vincenzo Salomone, ha sostanzialmente preso atto della decisione della Corte Costituzionale che lo scorso 22 novembre ha dichiarato l'incostituzionalità della parte della legge regionale in cui non si prevedeva l'attribuzione di un seggio in consiglio al candidato presidente che avesse ottenuto il maggior numero di voti, ovviamente dopo l'eletto governatore. Dunque Vandaferro entra in consiglio regionale, esce Giuseppe Mangialavori, medico vibonese, candidato nella lista della Casa della Libertà, nella circoscrizione centro e il suo, secondo il Tar, il seggio che va liberato per Ferro non quelli assegnata a Ennio Morrone o a baldo esposito come paventato in udienza. Per dirimere la questione è decisivo, secondo il ragionamento del Tar, verificare il conseguimento o meno da parte del gruppo di liste collegate alla lista regionale che ha conseguito la maggior cifra elettorale regionale di una percentuale di seggi pari o superiore al 50% di quella assegnata al Consiglio. Nel caso specifico, i gruppi di lista provinciali collegati alla lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale, consentendo così le elezioni di Mario Liverio, scrivono i giudici del Tar, si sono visti attribuire 16 seggi, verificatosi perciò quanto previsto dal comma 13 dell'articolo 15 della legge 108 del 1968. Ne consegue che l'ufficio centrale regionale avrebbe dovuto riservare a Vandaferro l'ultimo dei seggi spettanti alle liste circoscrizionali a lei collegate. E alla luce dei verbali, si tratta proprio delle seggi attribuito alla lista Casa delle Libertà presentate nella circoscrizione centro, seggio assegnato a Mangialavori. Vandaferro era patrocinata in giudizio dagli avvocati Valerio Donato, Francesco Pullano e Francesco Saverio Marini e Angelo Clarizia. Mangialavori si è costituito con gli avvocati Giuseppe Morbidelli, e Stefano Luciano Morrone con l'avvocato Reste Morcavallo. Ho sempre avuto fiducia nel corso della giustizia e sono felice, ha commentato Vandaferro, sia stata ripristinata una condizione di legalità costituzionale e democratica.